Ciao ragazzi, buongiorno volevo fare insieme a voi il decodent di questa decodenizzare questa cover, la cover è dell'iPhone 6 l'ho presa su Aliexpress l'avrò pagata 0,48 centesimo, 0,54 adesso non mi ricordo bene comunque bellissima per il prezzo che è e usare insieme provare finalmente a usare i tubettini che ho preso pochi tempo fa da Miniatur Suite vediamo cosa combino, ho già scelto i charm alcuni sono in resina questo qua per esempio è in resina questo è resina questo è resina, questo è resina questo anche resina però questi li ho fatti io mentre questo l'ho trovato nell'ultimo pacchettino che vi ho fatto vedere nel video precedente niente ragazzi partiamo, vediamo che cosa combiniamo allora io ho l'imbrazzo della scelta qua oddio questa sicuro no questa punta no ah, la luce devo tenerla per forza accesa perché oggi è buio fa nuvolo fuori ho acceso anche le luci della sala grandi vediamo se sono indecisa se usare con la stella la solita ho questa qua però io voglio provare a usare questa vediamo che cavolo combino tarararam taratatatam cioè ragazzi io ho una paura di fare di fare stiate qua adesso la proviamo un attimo a vedere che cosa combino perché sinceramente io di me mi fido mica troppo vediamo se questo fiocco intanto mi piace dove lo provo mettiamo un pezzo di carta proviamo un pochettino vediamo come esce scomodissimo però da tenere in mano oh esce o no wow no è bellissimo guarda che carino già proviamo a vedere che caspita combino wow è un rosa proprio forte scusate ragazzi se non parlo ma sono concentrata meraviglia wow wow sì lì è un po' adesso la ricopriamo aspetta perché sta finendo ok abbassiamo un po' uno stuzzicadente uno stuzzicadente ok questa è praticamente finita però c'è un po' c'è un po' l'altro tubo meno male di qua ok ok e continuiamo no vabbè bellissimo bellissimo tanto poi anche se non è perfetto ci vanno sopra le creazioni ok abbassiamo un po' abbassiamo un po' abbassiamo un po' queste punte wow wow adesso la decoriamo insieme chiudiamo prima che si secca ma vediamo dai tanto resiste allora partiamo dal fiocco mamma meraviglia il cioccolato oh che bello la farfalla color panna poi il biscotto la rosina no aspetta la palla gelato altro biscotto il macaron no prima mettiamo la stella la stella la rosellina quest'altro biscotto e il macaron infiliamo qua oh che bella guarda che carino poi mettiamo un po' di decorazione qui ho le stelline fatte in resina non so se ci vanno meno vediamo qui allora mettiamo un fiocco di questi un cuore un cuore mettiamo il cuore mettiamo qua aspetta aspetta ok un cuoricino grande lo mettiamo qua sul cioccolato dopo no io volevo un fiocco bianco qua non c'è eccolo qua aspettate fiocco bianco lo mettiamo qua che bello e qui ci mettiamo una pallina bianca o no non so una più piccola ok qua ne mettiamo un'altra un po' più grande ok qua mettiamo un'altra qua ci mettiamo il cuore si prendiamo la nostra colla che ho quasi finito prendo un po' di colla lo schiaffo sopra e glielo metto su oh che carino mettiamo un altro po' di luci in giro oh che pacco si lo volevo fare tutto cioccolato e bianco perché comunque c'è già il rosa che è abbastanza forte però vediamo se il tocco di verde ci starebbe bene vediamo oh la stellina si la stellina si ci sta ne metto un'altra dove la metto qua in mezzo mi sto impregnando tutte le mani mi sto mi sto conciando che cos'altro io direi che va bene così no a me piace così però aspetta perché qua in mezzo manco un punto luce questo troppo grosso non è che mi fa impazzire è un po' troppo grosso no mi metto un cuore ah guarda c'è anche questo gigantesco che bello si gli metto questo che bella si punti luce qua e là un altro punto luce no va bene così dai non esageriamo non è meravigliosa che bella vediamo se con la luce è spenta visto che è una battaglia questa luce è diventata una battaglia ormai questa luce se con la luce è spenta vedete tutti i colori io continuo a dire che secondo me è meglio accesa però va bene ragazzi alla prossima ciao ciao